un campo minato non dimenticare di usare il cercamine quando ne localizzi una avvicinati strisciando e prova a recuperarla il posto è minato beh si usa un cercamine potrai controllare sul radar dove si trovano le mine la zona è stata minata dopo aver localizzato le mine sul radar striscina avanti e recuperale le mine anti uomo hanno ucciso più di 20.000 civili negli ultimi 30 anni in paesi come la cambogia e nicaragua l'uccisione la mutilazione di vittime innocenti continua anche molto tempo dopo la fine dei conflitti è facile piantare delle mine sai ma rimuoverle è un'altra faccenda richiede più tempo ed energia di quanto chiunque sia risposto a investire le superpotenze dovrebbero fornire gratuitamente più cercamine e altre apparecchiature per la loro rimozione è il minimo che possiamo fare dopo averle collocate salve a tutti sono gabri costa in questo metal gear solid dopo aver ricevuto una chiamata codec da una persona esterna che si fa chiamare gola profonda sapete cosa si deve fare bisogna superare il campo minato per proseguire siccome c'è un campo minato non dimenticate di usare il cercamine quando ne localizzate una avvicinatevi strisciando e provate a recuperarla strisciate in avanti e recuperatele queste sono le mine claymore ricordatevi che il cercamine prezioso quando è attivo mostra sul radar le mine sepolte il cercamine serve a individuare gli oggetti metallici ma riesce a trovare anche le claymore nascoste con sistemi ottici il cercamine usatelo come si deve dovete superare il campo minato per proseguire se andate verso nord prima o poi aggiungerete il deposito delle testate nucleari per andare a salvare al emmerich detto anche otacon ma fate attenzione perché dritto davanti a voi c'è un carro armato in agguato un carro armato m1 guidato da vulcan raven il membro della fox hand bene vi saluto spero che questo video vi sia piaciuto ora mettete mi piace e iscrivetevi al canale a meno avete capito come superare il campo minato se volete affrontare il carro armato m1 è lì che vi aspetta ciao a tutti arrivederci iscrivetevi al canale